Nelle ultime 24 ore sono state 87 le persone risultate positive al covid-19. Sono tutte in isolamento domiciliare. Nel dettaglio i numeri dicono che 36 pazienti sono di Gela, 24 di Caltanissetta, 6 di Campofranco, 5 di Niscemi, 4 di San Cataldo, 2 di Riesi, 2 di Santa Caterina, 1 di Bonpensiere, 1 di Mazzarino, 1 di Milena, 1 di Mussomeli, 1 di Resuttano, 1 di Serra di Falco, 1 di Sutera e 1 di Vallelunga. Ricoverato in degenza ordinaria soltanto un paziente di Gela. Sono invece 65 i guariti dal virus, così ripartiti. 32 pazienti di Gela, 15 di Caltanissetta, 3 di Mazzarino, 3 di Niscemi, 2 di Butera, 2 di Milena, 2 di Mussomeli, 2 di San Cataldo, 2 di Riesi, 1 di Campofranco e 1 di Montedoro.